Ed è proprio... si respirava la libertà in quel momento, cioè proprio bello. Mi sono innamorato per quello, vedendo e ascoltando le storie di altri viaggiatori e in qualche modo lasciandomi ispirare. Bentornati su Gravel'Italia Podcast. Oggi siamo con un giovane viaggiatore. Sarà una puntata che avrà sapore di Nord. È un ragazzo che ha fatto l'Alecco Capo Nord, tra le altre cose ha fatto anche la Torino Nizza, poi è stato anche in Bosnia. Insomma, un vero cicloturista. Diamo il benvenuto a Davide De Cataldo. Ciao Davide, come stai? Ciao, molto bene, grazie. Molto bene. Allora, cominciamo un attimino a parlare di te. La liturgia del podcast è di raccontare un po' il personaggio, l'ospite. Per cui partiamo un po' dalle tue origini, quando sei nato, contesto familiare in cui sei cresciuto, formazione scolastica, professionale. Arriviamo fino ad oggi. Sono nato il 21 febbraio 1998 in Valsassina, in Trobio. La cosa che fa abbastanza ridere e raccontare è che sono nato nell'ascensore di casa mia. Ok. Sì, avevo abbastanza fretta di nascere, ecco. Nasco appunto in Valsassina, che è una valle parallela al lago di Como, sul versante di Lecco, ed è un posto molto tranquillo. Mi ricordo durante le scuole elementari, ecco, che si stava fuori in bici liberamente. Cioè, era un periodo in cui senza i telefoni, senza niente, molto poco controllo da parte dei nostri genitori, ma perché c'era una tranquillità, potevamo giocare a calcio, in strada. Cioè, era proprio un ambiente, mi ricordo, in Ascondini, in paese, che era un paese di 4.000 abitanti. Certo, certo. Bello, hai assaporato i miei tempi, diciamo, qualche anno dopo. Ed è proprio, si respirava la libertà in quel momento, cioè, proprio bello. La mia famiglia è una famiglia molto tranquilla. Mi ricordo dei viaggi che facevamo in camper, i miei sono dei camperisti. E quindi, il periodo, la prima adolescenza, finché poi non sono rimasto a casa, ho detto, mamma, papà, io rimango a casa. Però loro avevano già messo il seme del viaggio. Esatto. Io mi ricordo dei viaggi bellissimi, fatti in Normandia, due, tre settimane in Normandia a girare. E anche il giro dell'Olanda è stato bellissimo, vedere le coste, i fari. Sono viaggi, cioè, sono bellissimi ricordi questi. Quindi, capitava anche spesso, magari, anche non viaggi così lunghi, diciamo, d'estate, ma anche il weekend si partiva. Si andava, mi ricordo, a vedere la Veneria. Questo è il primo ricordo. Certo, certo. Viaggi così in Toscana, abbiamo girato in lungo, in largo. Poi penso che comunque per un bambino avere il camper è già una casa viaggiante, è già un'avventura. La cosa bella. Quanti anni avevi? Allora, loro l'hanno preso che avevo otto anni. È l'età perfetta. Esatto, bellissimo. Io mi ricordo quando ho fatto il primo zaino, comunque ho raggruppato le prime cose da portarmi via in camper. Cioè, io uscivo di casa, salivo sul camper e là iniziava il viaggio, poi indipendentemente dal fatto che mio papà dovesse guidare, eccetera. Però là iniziava a dormire, fuori, vedere. E mi ricordo queste scene in cui ogni volta, ogni sera, fuori dalla finestra, dall'oblò del letto a castello del camper, vedevo qualcosa di diverso. Quello era spettacolare. Figlio unico o fratelli? Sorella, c'è una sorella più grande. Anche lei ciclista? No, purtroppo. Certo, purtroppo. Ci ha provato, perché col camper poi portavamo le bici e diciamo che non era proprio il suo, però andava bene così. E formazione? Dopo cosa hai studiato? Ecco, come formazione io ho studiato geometra, mi sono maturato nel 2017, però nella primavera del 2017 ho avuto un infortunio, insomma. Ho avuto un problema nel ginocchio, per cui ho dovuto fare riabilitazione e in quel momento lì la bici è ritornata, dal momento in cui ero bambino fino adesso, a diventare un mezzo per la riabilitazione. Mi ricordo con questa bici, mio papà è alto un metro e ottanta, molto più di me, e pedalavo con la sua bici, che era troppo alta per me, troppo grande. Mi ricordo queste pedalate infinite, anche perché poi la valle, essendo un quanto valle, c'è poca pianura, c'è solo salita. E quindi mi ricordo questi primi avvicinamenti alla salita, piano piano, incomincia prima una una, poi l'altra, per fare riabilitazione. E quindi, niente, nel 2017 mi avvicino un po' al mondo della bici, nel frattempo appunto mi maturo. La maggior parte dei miei amici è iniziato a lavorare subito e quindi ho passato quell'estate là, sperimentando un po' in maniera riabilitativa la bici e poi non avendo neanche, cioè, vivendomela proprio da solo. Perché i miei amici appunto lavoravano, non avevano tempo, eccetera. Quindi io durante la settimana mi trovavo da solo e dicevo, vado a fare ingiore in bici, che tanto almeno, tanto posso farlo da solo, tranquillo. Certo. E quindi... Ma tuo papà però dicevi che pedalava comunque? Sì, mio papà pedalava, sempre pedalato da quando... da quando sono nato. Sì, sì, una piccola introduzione, un po' di... Sì, diciamo che... Qualche consiglio ha potuto dartelo magari? Sì, 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 ma soprattutto perché usavo le sue bici. Anche se è un po' oversight, però... Ti dava i consigli perché non gli rovinassi le sue bici? Ecco, no, anche perché poi in quel momento là ho iniziato a mettere le mani sulle bici e quindi alla fine era lui che mi diceva, ah, se la usi però magari cambia il copertone, no? Se c'è qualcosa cambia da te e quindi anche tuttora fa così, quindi... Certo, 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 ok, ok. E quindi arriviamo al 2017, fine 2017-18 che mi ritrovo appunto a iniziare il mio percorso universitario e lì in momento appunto vivendo in una valle che con quanto valle è abbastanza chiusa, ristretta, anche perché per esempio non avevo mai preso un treno, no? Da solo, una metropolitana che non fosse con le gite di scuola, insomma, e mi ritrovo catapultato a Milano perché ho fatto il Politecnico a Milano in pianificazione urbana. Ho fatto tre anni là e lì ho incominciato un po' a mettere in moto quella che è la passione per la bici, anche perché da lì ho iniziato ad andare al lavoro in bici perché nel frattempo poi lavoravo anche in un bar durante gli studi, quindi mi ricordo le gite, i tragitti per andare al lavoro e poi ritornare alle tre di notte con questa bici che nel frattempo avevo trovato, sì, una bici da corsa, in acciaio, vecchissima, però tuttora ce l'ho. Sei stato un eroe, io non vado spesso a Milano però sento e leggo sui social insomma che la vita per i ciclisti a Milano è bella dura. No, aspetta, non stavo a Milano perché Milano col tempo è iniziato un po' a viverla male, nel senso era un posto troppo caotico per me e tornavo a casa tutti i giorni, quindi facevo un pendolarismo importante, però per il piacere di tornare a casa devi stare nella valle dove tutto era sua. Capisco. Quindi niente, in università poi mi confronto anche con altri amici che hanno questa passione, loro sì che facevano questa vita qua, ovvero stavano a Milano e andavano in bici a Milano, mi ricordo Federico, grandissimo, che poi ho incontrato anche nel viaggio che ho fatto e lui era uno di quelli temerari che viveva a Milano con la bici. Ciclista urbano di quelli conventi, bravo. Esatto. E poi i miei studi continuano, arrivo a Venezia, faccio la magistrale a Venezia dove lavoro un anno come ricercatore e poi adesso sono in Valsassina, tranquillo. Io ti ho conosciuto, chiaramente l'ho anticipato prima per il tuo grandissimo viaggio, cos'è, l'Ecco Caponordo. Ecco Caponordo, sì. Come ti è venuta l'idea? Uno dice ho la mia vita, ho il mio tram tram, decido di andare a Caponordo oppure decido di farmi un viaggione, ci sono mille destinazioni, tu hai scelto Caponordo. Proprio quello. Sono stato ovviamente ispirato, io sono accorto col tempo che a me le storie piace sentirle, io sono curioso, passo le ore ad ascoltare le storie, a vedere anche i video, anche perché poi le storie vanno, la storia audio e video vanno a Comunella, quindi ero molto sollecitato da quel punto di vista. In più sono sempre, diciamo, cresciuto con le storie di mio zio, zio Roby, che lui queste cose le faceva già, no? Io mi ricordo l'estate in cui magari ero in giro col camper e mio papà tirava sul telefono, sentiva mio zio e mio zio era a Dubrovnik, in bici, aveva appena finito la costa dei Balcani, diciamo, e quindi stava tornando, traghettando a Bari. Quindi lo zio ce l'ha fatta, è arrivato fino alla casa. Genitori, camperisti e zio cicloviaggiatore. Sì, motociclista. Era per forza che dovevi prendere un po' di... Anche perché poi il viaggio prima, l'anno prima, scusami, lui era andato, il suo caponord, in moto. Ah, ok. Era andato in moto, quindi già ventilava nella mia testa questa... Meta. Questa meta. A curiosità, mille, anche perché poi cerchi storie, ma anche di altri viaggi. Mi ricordo aver visto praticamente tutti i video di Sergio Borroni, no? Che mi raccontai, io là, cioè, pendevo dai racconti, dalle labbra di Sergio, che mi spiegava che facevano questo viaggio. Poi è molto documentarista. Sì, sì. E quindi non ti dice solo quello che succede, ma anche la storia del posto dove vai. Quindi per me era pazzesco. Cioè, mi sono innamorato per quello. Vedendo e ascoltando le storie di altri viaggiatori e in qualche modo lasciandomi ispirare. Il momento in cui questa cosa qua non mi dava più soddisfazione, nel senso, a un certo punto, io, essendo molto curioso, ho detto, no, ma io, cioè, va bene, mi racconti la storia, ma io voglio vedere anche retroscena. Voglio viverla. Voglio viverla a un certo punto. E allora, col tempo, cioè, è stato prima un anno in cui ho fatto i primi viaggi un po'... Test. Test, sì. Ho fatto la via Francigena con la mia ragazza di allora. Un altro viaggio con delle bici da 26, improponibili. In Umbria, siamo partiti da Firenze, siamo arrivati all'Aquila, in tenda, con tre amici. C'è stato, cioè, il secondo giorno mio amico ha rotto la catena, così, allora spingerlo su per le salite. E poi c'è stato, ho detto, ho una finestra temporale di tempo con l'università per cui posso fare questa cosa qua. Sperimentiamo, facciamo. E quindi è partito, quell'anno, l'anno era il 2022, 24, 22, un'anni fa. E ho lavorato tutto inverno per tirare sui soldi, per fare le cose, per prendermi le attrezzature, per preparare tutto. Poi mi hanno aiutato anche i miei genitori, ovviamente. E poi ho messo insieme tutte le cose per partire. E poi ho detto, o adesso, o la metto via. Non ci penso più, perché io mi ricordo i momenti prima, i mesi prima di partire, che magari pensandoci costantemente, mi svegliavo anche nel cuore della notte e pensavo, e se mi ritrovo nel momento in cui piove tantissimo, è di notte, non ho dove ripararmi, cosa faccio? E allora là poi incominciavano le rotelle a pensare, no? E allora mi servirà forse quell'attrezzatura, forse... Poi ho sbagliato un sacco di cose incredibili. Però... Si impara facendo. Sì, sì, sì. Infatti nel video parli appunto della lavata. Mi piace bellissimo il pezzo in cui parti da pochissimo e ti trovi in mezzo a un diluvio e trovi riparo in un container. Sì, ero appena partito da D'Amburgo, proprio penso di aver fatto sei chilometri, dalla casa del mio amico dove mi ero fermato a dormire. Lo vedevo che pioveva, sarebbe iniziato a piovere, però ho detto, boh, io vado. Anche perché dopo due o tre giorni di stop ho detto adesso bisogna andare perché sennò gira troppo la testa, le gambe non vanno, va, va, andiamo, andiamo. Poi sarà più gerellina invece. E invece è stata tosta perché proprio poi sono cose che impari, no? Cioè io penso che in quel viaggio là la pazienza sia stato un fattore cruciale. Cioè impari ad avere pazienza anche perché la maggior parte delle cose non puoi controllarle. E quindi riesci a fare le acrobazie nel momento in cui, cioè solo sulle cose che puoi controllare. Quindi le tempistiche, i tuoi ritmi, però se incomincia a piovere e poi smette alle otto di sera e tu magari con la giornata sei rimasto fermo, nulla ti vieta di andare avanti e di portarti avanti. Però anche in quelle situazioni lì, notavo dal video, hai sempre il sorriso. Cioè hai sempre un'attitude positiva, voglio dire. Sì, sì, anche perché, cioè diciamo che poi nel video ci sono le parti documentate. Ah ok, hai tagliato tutte le parti cattive. Tante altre parti dove l'umore era un po' più basso non c'erano, ma anche perché comunque non me la sentivo. Cioè ci sono alcuni momenti proprio, per esempio, quando ho scoperto di aver rotto l'intera ruota la mattina. Quell'estate è una mattina un po' abbastanza pesante, non ci avevo neanche voglia di parlarne, anzi forse ho chiamato a casa per dirgli del problema, anche perché comunque sentivo regolarmente i miei. Quando non li sentivo voleva dire che andava tutto bene. Quando magari li chiamavo anche solo per confrontarmi e lì voleva dire che la situazione era abbastanza impegnativa. Cioè nel senso mentalmente. E un viaggio così, attrezzatura a parte, uno che dice voglio fare, che budget deve mettersi in testa una persona? Allora, secondo me, dentro questo ragionamento qua del budget, c'è un fattore importante che è quanto sei disposto ad adattarti. Perché, per esempio, io ho fatto poi una stima dei miei costi, non sono stato troppo talebano. Cioè nel senso, io avevo, in quel momento là, non avevo ancora l'esperienza di viaggiare con la pioggia o comunque anche di andare a dormire in tenda con la pioggia. Quindi magari preferivo andare in un campeggio, stare anche abbastanza comodo. E quindi quello incide soprattutto al nord molto, per una questione proprio di alloggio. Mi ricordo che una sera sono arrivato dopo una giornata infernale, dove ho sbagliato tutto. Cioè ho sbagliato proprio la strada e sono finito a scarrozzare bici, borsa, su un sentiero, sotto la pioggia. E' stato spiacevole, diciamo. La sera pioveva ancora e lì ho detto, adesso trovo un albergo, mi metto dentro e basta. E là è costato, penso che sia stata la volta, ma in tutta la mia vita che ho pagato così tanto, cioè 100 euro a notte per dormire, magari per qualcuno non è niente, però per me era abituato a spendere. Io mi ero dato un budget di 30 euro, 30-40 euro al giorno, tramangiare, roba e tutto. Però io volevo stare comodo in quel momento là anche per riposare mentalmente. Esatto, esatto. Comunque spannometricamente i costi del mio viaggio vivi, cioè senza la bici eccetera, per stare fuori quasi due mesi, sono stati 1.200, 1.300. Ah sì, super abbordabile. Sì, poi dipende, c'è gente che ha pagato anche molto meno, anche perché io tiravo un po' sul cibo perché mangiavo sostanzialmente le stesse cose, pane, formaggio e la pasta e il cioccolato, tantissimo cioccolato. E poi appunto tiravo su quello, però alcune volte mi fermavo a dormire. Sì, sì, ma ci stavo, anche come recupero fisico, anche il stacco mentale, sei più rilassato. Anche, cioè, il trauma magari di tirare sulla tenda ogni mattina, cioè magari dopo che è piovuto, è una cosa che devi essere abituato. Io non lo ero tanto in quel momento là. Avevi fatto, beh, il campeggio avevi già fatto in camper però, giusto? Sì, ma poi in tenda comunque anche a piedi è stata sempre, cioè, ho una collezione abbastanza fornita di tende, nel tempo alimentato, quindi la passione per la tenda del campeggio c'è sempre stata. Però, sai, magari vai in campeggio, vai nella valle sopra casa, ti metti là tranquillo, sai che comunque non piove, il cibo ce l'hai, però stare magari sotto la pioggia norvegese, di fianco a un fiordo che è lì pronto per disintegrarti, ti senti proprio, ti senti... Piccolo. Esatto. Sì, sì. E perché consigliare un viaggio in bici? Non è più comodo dire prendo l'aereo, hotel e via. Secondo me dentro questa, cioè, la risposta è perché ti manca tutto quel pezzo in mezzo. Cioè, prima di partire ho fatto un po' di studi, cioè studi, sono un po' informato, ho letto un po' di libri anche sul viaggio da solo, no? E uno dei libri sui viaggi, anche diciamo spirituali secondo me, a cui ho attinto è il libro di Terzani, un indovino mi disse, no? Allora in quel libro là, cioè io pendevo anche in quel momento, perché è curioso delle storie degli altri, c'è dalle parole di Terzani che diceva che dentro, lui, abituato a rimbalzare come una pallina da una parte all'altra del mondo, si pedeva tutto quello che c'era in mezzo. Allora l'ho detto, cavolo però, in bici, cioè questa roba qua la vedi, no? Quindi rispondere a questa domanda così, cioè come ha fatto lui, anche un po' per emulazione, provare a sperimentare cosa c'è in mezzo a una parte all'altra d'Europa e vedere le storie. Cioè vedere, ascoltare, vivere le storie magari della gente che incontri. Anche perché ho visto, ho notato che stando da solo, io non so, cioè faccio fatica a stare da solo. Cioè nel senso, sono una persona piuttosto estroversa che se fa qualcosa con qualcun altro, la fa meglio, gli piace di più. E quindi partire per un viaggio da solo voleva dire un attimo, cercare di scardinare, non avevo tutta questa coscienza allora, però cercare di scardinare questa cosa. E io ho notato che se viaggiando da solo, poi sei portato, sei spinto ad andare, almeno io, a cercare gli altri, no? Sì, sì, a trovare un aggancio più facilmente. A trovare qualcosa anche perché, cioè quelle volte che magari avevo pensieri e cose, io chiamavo qualcuno, anche perché semplicemente avevo bisogno di parlare, no? E se sei da solo, no? Con qualcun'altro, anche se sei da un'altra lingua, altre esperienze, parli, fai. Sì, forse, esatto, il viaggio in compagnia ha quel difetto lì che magari rischi di fare comunella tra di voi, diciamo, e ti perdi un po' il contatto con noi. E quando decidi di organizzare uno dei tuoi viaggi, da cosa parti? Come parti a dire vado là? L'organizzazione, hai una tabella con cui lavori? Pensi prima alla meta, prima alla bici, prima a cosa portarti via? Allora, io ho sperimentato un po' lasciarmi ispirare da delle immagini, no? Per esempio, l'anno scorso sono stato in Provenza, partendo da Torino, arrivando fino a Nizza, e io ho deciso di passare, di fare quel viaggio là perché ho visto delle immagini, no? Ho visto il Ventù, ho detto, qua è da andarci, cioè è spettacolare. E quindi ho ipotizzato tutto un tragitto, anche in maniera, senza guardare troppo le piste ciclabili, o anche solo i numeri, ovvero il dislivello in quel caso, i chilometri. Ah, i chilometri erano relativamente pochi, erano 800 chilometri, però... Il dislivello c'era. 16.000 metri di dislivello erano... Ed era meglio non saperlo. Quasi sì, quasi sì, perché appunto io volevo andare là, ho trovato qualcuno comunque a andarci, sarei partito anche da solo, però comunque stare in compagnia è piacevole, eccetera. Quindi niente, ho visto le foto, mi ero appena laureato a Venezia, ho detto, già adesso è un po' il momento di andare in vacanza. Allora ho preso, sono partito, abbiamo fatto il Moncenisi in quell'occasione là. Io non è che ho scelto facciamo il Moncenisi, sono anche una persona che si stupisce di quello che trovo, quindi senza troppe aspettative. Quindi siamo andati su, abbiamo trovato una giornata bellissima e il passo era chiuso alle macchine, quindi l'abbiamo fatta in mezzo alla strada, c'erano alcuni cumuli di neve verso la fine, però è stato spettacolare. C'era la pulizia, insomma, la dogana, siamo passati tranquilli, abbiamo preso le vici sopra il jersey di cemento e siamo andati. Bella, bella storia. E proprio con le immagini, per esempio, anche in Bosnia, io volevo vedere, poi ne ho visto un angolo, ho fatto una giornata, però io ero interessato, volevo vedere le moschee, non ho mai visto una moschee, ho detto, andiamo a vedere un po' sta cosa qua. Allora, in una settimana, anche là, abbiamo fatto la pista ciclabile che porta, ho fatto la pista ciclabile che andava al confine, non mi ricordo come si chiama, l'Alpe Adria. L'Alpe Adria, bellissima, fantastica, e poi dentro il lago di Bled, Slovenia, Croazia, proprio sciottate così in un giorno, anche perché poi volevo un po' pedalare tanto. Per cui parte dall'immagine, ti piace, voglio vedere quel posto. E dopo, alla fine, una traccia la crei sempre, poi durante i giorni, in cui magari la sera, a me piace andare poi in campeggio, per una doccia così, tranquillo. Poi la sera in campeggio, guardi bene il giorno dopo, lo pianifichi un po' meglio, magari ti lascia anche ispirare dalla gente che c'è lì, magari trovi quello che ha fatto la strada al contrario, allora gli chiedi un po' di indicazioni, poi ti lascia. E come attrezzatura video? Perché appunto sei videomaker, fai anche dei bei video, e qua ci sono un po' di domande un po' tecniche, cioè che attrezzatura video ti porti dietro? Perché devi comunque bilanciare qualità dei video, ma anche magari leggerezza dell'attrezzatura. Sì, e anche dopo, come butti giù, ti prepari prima uno storytelling tuo, uno storyboard, oppure vai alla mano? Allora, diciamo che vado molto per tentativi, ovvero, vabbè, come attrezzatura ho una Canon M50, e poi filmo col telefono anche, perché ho capito dopo il viaggio a Caponord che comunque l'audio del telefono viene un po' meglio rispetto a quello della macchina fotografica in movimento, quindi bilancio un po' le cose. Perché hai questi due obiettivi, diciamo. Sì, quindi soprattutto con la pioggia mi piace di più tirare fuori il telefono piuttosto che la macchina fotografica. Chiaro. Cavalletto lo porti via? Cavalletto lo porto via, lo uso, se mi ricordo, la... La piastrina. Esatto. In Bosnia non l'ho portato inconsapevolmente, allora mi sono messo anche lì a studiare tutti i modi per tenere sulla macchina fotografica. A un certo punto, in un'occasione, una via di vago adesso, in un'occasione l'ho messa col cordino intorno a un cartello. Ok. E quindi rimaneva lì e poi l'ho un po' adattato e mi ho messo una cosa dietro, insomma. Però provando, ecco. Sì, sì, sì. Però no, i video, soprattutto quelli, diciamo, in cui parlo, vengono abbastanza naturali per il fatto che racconto un po' l'emozione del momento e mi lascio prendere. Più o meno va sempre così, magari faccio due o tre prove, capisco quello che voglio dire prima in me, faccio il ragionamento, poi lo propongo, poi più o meno soddisfatto il risultato lo tengo. Tra l'altro scegli anche molto bene, secondo me, le musiche. Eh, quello è... Ti viene da te o hai un background anche di... No, quello viene, diciamo, in abbastanza naturale, anche in maniera spontanea. Poi, tra l'altro, non sono uno che ascolta tanto la musica mentre pedala, se è in un posto nuovo, se invece è una cosa ripetitiva, noiosa, magari la usa anche. Però, quindi, non associo, diciamo, quello che... il luogo a quello che ho ascoltato in quel momento. mi viene in mente questo ragionamento che si può fare proponendo delle canzoni in un video. Però mi lascia un attimo ispirare anche dal ritmo, mi piacciono le canzoni abbastanza ritmate, che scandiscano anche bene il momento, cioè il taglio dei video. Poi c'è un lavoro proprio ripetitivo, magari poi monto tutto. Ma io guardavo, ho guardato quasi tutti i tuoi video, anzi, invito tutti ad andare a vedere i tuoi video, soprattutto il mio viaggio a Caponord, che è fatto molto bene, però anche, sì, hai delle canzoni che sono conosciute, ma comunque sei andato a cercare anche canzoni, io le scoperte da te, un po' particolari, ecco, voglio dire. Non è che hai preso solo roba commerciale, o super conosciuta. No, 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 anche perché col fatto che mi piacciono tanto i video, sono andato poi a ricercare magari quelli, le canzoni in altri video che mi interessavano un po' di più. Poi diciamo che io attingo ad una radio americana, una radio, penso che sia, da quello che ho capito, uno studio che mette delle playlist di canzoni un po' particolari, diciamo. Quindi attingo da loro cercandoli su Spotify, anche perché magari sono canzoni proprio vecchie. Esatto, esatto. Mi viene in mente Zulu, l'ho conosciuto, l'ho visto lì. Spettacolare, cioè quella radio là, poi te la giro. Sì, sì, sì. E quindi trovando quelle playlist, poi vai anche un po' per tentativa. A volte passa davvero più tempo a cercare la canzone su quelle playlist, quella che ti soddisfi abbastanza, e da usare per le tue immagini, anche perché poi l'immagine va bene, però con la canzone diventa tutta un'altra cosa. Tutti quanti i ciclisti hanno un po' le loro fisse sulla bici, sull'abbigliamento, sulla bici, eccetera. Tu hai qualche fissa, qualcosa che sulla tua bici non deve mancare o la tua bici deve avere determinate caratteristiche? Allora, dopo... Mi viene da dire, deve avere ruote robuste. Eh, diciamo proprio di sì. Guardando ai fatti, non partirei più per un viaggio con una ruota con meno di 34 raggi. Ok. Raggiata in tripla, quindi con tutta la sua... una ruota bella e robusta. Magari 34 vanno ancora bene, però devono essere... Più sono, meglio sono. Sì, sì, anche per una questione... Alla fine là non regge tanto il peso, cioè regge una questione, soprattutto sul lungo periodo, se non si fanno competizioni, eccetera. Affidabilità. È una questione di affidabilità. Perché sempre più spesso... Sì, cioè... Mi vengo... Vengo in contatto con dei racconti, con delle esperienze simili alla mia, in cui esplodono queste ruote, si spaccano i raggi. Eh, anche io infatti l'ho visto sia da te, si vede benissimo anche nei viaggi di Giamanotti, che anche gli ho avuto problemi, ma in quasi tutti i racconti dei viaggiatori c'è il problema a ruote. Sì, che poi secondo me sono due fattori in quel caso, perché una parte è legata alla... Come si chiama? Alla... Robustezza, no? No, sì, in questione materiale, quindi proprio magari un cerchio in alluminio con un certo tipo di raggi, il numero di raggi, però dall'altra parte è anche una questione organizzativa legata al peso, perché il fattore importantissimo è la distribuzione del peso. Eh, infatti. Perché... La ruota dietro subisce... La ruota dietro, a parte quella che spinge, quindi è soggetta proprio... A stress. Allo stress. Però... Cioè, non può essere troppo caricata. Infatti, un altro elemento secondo me che guarderei, anzi, che ho guardato sull'acquisto di una nuova bici, è il fatto di avere la possibilità di avere le borse davanti, gli attacchi davanti. Adesso, dopo il viaggio a Caponordo, ho detto, adesso facciamo che mi prendo un acciaio, e ho preso una Surly, ogre, con un'infinità di combinazioni davanti, possibilità di mettere le borse. L'hai già usata? Allora... Cioè, l'hai già usata carica, dico. Per dire la verità, ne ho prese due. Allora, la prima, ho preso sempre una Surly, ogre, penso che fosse intorno al 2018, dell'anno della bici, perché l'ho presa usata. Era nera, bellissima. Con quella sono andato sul 21, straordinaria, perché aveva il... aveva la doppia, però una doppia abbastanza improponente, aveva un 28-36 e basta. E quindi potevo salire sui muri verticali, che era un piacere. E infatti è andata molto bene. Dopo, con quello ho fatto anche il giro in Bosnia, diciamo Balcani-Bosnia, sono tornato a casa e me l'hanno rubata. Ed è stato un colpo, nel senso anche perché avevo, anche in quel caso là, avevo lavorato tutto l'inverno in un bar a Padova per tirare i suoi soldi, per andarla a prendere. Era andato a Roma, ero partito a mezzanotte da Padova per andare a Roma a prenderla da un tipo che la vendeva usata e l'ho riportata a casa. Sono stato in giro 24 ore per questa bici qua. È stata abbastanza stressata. Poi l'ho presa, l'ho sistemata, perché questo qua era pazzo, c'aveva i freni, al contrario. Però erano idraulici, quindi ho dovuto fare lo spurgo. Dopo tutta questa lavorazione qua, penso di averci fatto 2800 chilometri e poi niente, non è rubata. E poi ne ho presa un'altra, uguale, però il colore champagne era più bella nera. Ok. E con tutte le applicazioni davanti possibili, immaginabili. Adesso ti faccio una domanda che faccio un po' a tutti gli ospiti per capire i vari punti di vista sullo stesso argomento ed è chiaramente sul mondo grave. Il mondo grave l'abbiamo visto che è molto sfaccettato. Ci sono i cicloviaggiatori appunto come te, ci sono i bikepacker che vanno via un po' più light, diciamo, ci sono chi fa gravel per semi-competizioni, poi c'è anche l'USI adesso che ha fatto la sua versione di gravel. Ci sono molte differenze. Parliamo sempre di gravel, la parola è una sola, però ci sono... Sfaccettature. Bravissime diverse sfaccettature. Secondo te il futuro del gravel quale sarà? Ci sarà una di queste sfaccettature che prenderà il sopravvento, conviveranno tutte quante assieme? Ma secondo me forse il sopravvento lo sta già vivendo, nel senso... essendo una... Io la vedo proprio come una nuvola, no? Ovvero, all'interno di un continuum, no? Tra la mountain bike e la... la vici da corsa. Dentro c'è il mondo. Poi alcuni... alcuni punti, chiamiamoli così, emergono di più. Io mi immagino che per... Il fatto che l'USI ha iniziato a interessarsi a questo mondo, dopo incominceranno ad arrivare delle norme più specifiche, anche i costruttori si metteranno un po' in ordine per seguirle, quindi magari quel punto là incomincerà a salire, no? Quindi dal punto di vista tecnologico già si vedono cose innovative e interessanti, perché cioè... la bici ha due ruote, due pedali. Cioè, quindi... è interessante questa cosa qua, no? Che si possa evolvere ancora di più. Però dall'altra parte, secondo me, rimarrà comunque una fetta di ciclisti gravel in cui... cioè, mio papà per dire che si è preso la sua gravel, gli piace, fa 6.000 km all'anno, tranquillo, ci riesce spesso, si fa i suoi giri, la usa proprio come... per fare le passeggiate, le chiamerei, no? Sì, sì, sì. Però, cioè, la libertà di poter con, chiamiamo, una categoria che poi non è una categoria. Poter fare tutte queste cose qua, secondo me, è straordinario, anche perché, cioè... se no, siamo sempre in giro due ruote, due pedali. Hai detto libertà e quando faccio questa domanda, negli altri puntati, quasi tutti hanno messo dentro la parola libertà. Cioè, associano proprio il gravel alla libertà. Sì, perché poi si adatta ai piaceri di qualsiasi persona, cioè, di qualsiasi persona, ma io ieri stavo parlando con una persona che non è mai andata in bici, no? E però, appena iniziato, è andato, ha preso una gravel, e le fa, io con questa mi sento che posso fare tutto, cioè, nel senso, se domani voglio prendermi le gomme da strada, cioè, le gomme, sì, anche dei cerchi da strada, se vuoi, posso farlo. Se invece voglio fare un po' più lo sterrato, allora vado, no? Ma poi, secondo me, all'interno dello stress quotidiano, c'è chi magari è più abituato ad andare in strada, e quindi, magari ad essere un po' più stressato da quello che lui circonda, per esempio, le macchine. Ultimamente sto facendo tanta strada, e le macchine ci sono, le puoi eliminare. Però, la possibilità, con una bici, di poter switchare, spegnere, il rumore, e andare sullo sterrato, è... Impagabile, è vero? Sì, sì, sì. Poi parlavi prima di USEI, di regolamenti, di tutte le evoluzioni alla fine che verranno, mi viene in mente una frase di Joss, che è un costruttore di Torino, di bici, e lui fa, è un piccolo divagazione, e lui fa, la bici fa, sono due ruote e due angoli, tutto il resto è folklore. spettacolare. Sì, sì, bellissima, bellissima. E invece, qual è il tuo rapporto con i social? Adesso ormai, stai diventando un po' personaggio, diciamo, se ti si vede. Eh, ma è il mio saputo in realtà, perché comunque, per esempio, ai 20, mi viene per esempio in mente il BAM, in realtà non ho partecipato, anche perché, forse l'anno scorso era un concerto, quest'anno, siamo andati a qualche parte, in bici, parallelamente. ok. Quindi, in realtà, mi piace quando, magari, qualcuno mi contatta, mi chiede delle, delle informazioni, no? Anche perché, io vorrei dare, cioè, vorrei aver avuto questo supporto quando c'ero io a fare questa cosa qua. Quindi, aiutare, magari, qualcuno interessato, che sia interessato alla storia, che adesso sta facendo il giro, o qualsiasi altra esperienza, in realtà. Certo. È piacevole, anche perché, si comunica, proprio, in maniera umana. Certo. E quindi, si va oltre, quella, lo schermo del video, e ci sono persone, dietro, no? Segui ciclismo in tv? Sì, tantissimo. Strada, mountain bike? Strada. Strada, ma anche dal vivo, in realtà, perché, già al giro, quest'anno, mi sono messo un po' dietro, con un altro mio amico, ad andare a vedere, lui già, seguiva da tanto. e mi ha portato un po', anche, io lo seguo in bici, allora andiamo a vedere queste, siamo andati a vedere il giro, a Livigno, partendo da casa, da Lecco, abbiamo fatto, beh, un bel giro, e poi siamo andati anche, un paio di settimane fa, a San Luca, a vedere a Bologna. La partenza, dei tour? No, no, l'arrivo, sul San Luca, ok, ok. Spettacolare, non mi piace, non mi piacciono i posti troppi affollati, però l'area era uno spettacolo. Siamo partiti, siamo arrivati sempre da Lecco, quindi abbiamo fatto, quella giornata, dieci ore in bici, siamo arrivati giù tardissimo, siamo andati a mangiare in trattoria, il giorno dopo, svegli, ciabatte, costume, e, faceva un caldo, la Madonna, eravamo già senza maglietta, e siamo andati a San Luca, no? E verso le dieci c'era già... Il mondo. Mamma mia, incredibile, e passare con la bici, e tutto così, no? Sul San Luca, è stato spettacolare, sono rimasti là un sacco di tempo, perché poi sono passati alle cinque, eravamo alle dieci, sì, sì, e si è rimasti là tutto il giorno. E se potessi parlare al Davide Bambino, cosa gli consiglieresti? Allora, adesso direi, gli direi, di iniziare a fare queste cose qua prima, perché mi sto rendendo conto che adesso iniziando a lavorare, e lavorando già, c'è meno tempo da dedicare a queste esperienze. Certo. E quindi magari a 16 anni, piuttosto che stare in paese, passarsi la settimana tranquillo, prendi, vai, tanto c'è tempo, te lo puoi permettere, Chiaro, chiaro. Invece adesso magari dovendo combinare anche le questioni ferie, cose, non è che non si fa, si fa, forse di più, con più coscienza, però in quel momento là avere tanto tempo a disposizione per riuscire a maturare di più questo aspetto. E là ti mangi un po' le mani, quando avevi tempo non lo facevi, adesso che non c'è tempo lo fai. È sempre così, un po' dappertutto. Invece c'è una persona che è stato un guru per te, un faro, a cui ti senti di dover dire grazie? Beh, sarebbe secondo me un ringraziamento generalizzato alla mia famiglia, perché comunque mi hanno sempre supportato in queste cose qua che facevo, che faccio, e secondo me un grazie anche a mio zio, che comunque con un po' il suo modo di fare, un po' anche gogliardico, diciamo, anche semplicistico, perché mi diceva no, devi fare così, fai qua, no, ma la bici non lo usare così, ma vai di qua. Quindi forse un grazie anche a lui sicuramente. Siamo verso la fine, qual è il viaggio dei tuoi sogni? Allora, di solito, quando sono lì che penso, apro Komoot, mi guardo delle strade, e poi dico, cavolo qua, sarebbe bello andare. E c'è una strada, adesso, secondo me è un po' lontano, non so neanche se col tempo magari ci arriverò, però ho visto delle belle immagini della strada dei datteri in Marocco, che è una sostanza, un canyon, in cui c'è questa strada tutta curve, nel deserto, e quella sarebbe bella da fare. Quanti chilometri è? sono buttato giù un anello di 800 chilometri, però sei sull'altopiano, com'è che si chiama? Sull'Atlante, sei sull'Atlante, secondo me. A che altezza sei? Forse si toccano i 1.6, in alcuni passi, però in realtà, cioè, andare in Marocco e vedere la neve, cioè per me, è straordinario, e secondo me quello sarebbe molto bello da fare. Fattibile, comunque col discorso ferie, anche se... sì, è un discorso, forse quello, proprio più organizzativo, nel senso, sarebbe uno di quei viaggi in cui tu prendi, parti, cioè, io non so proprio cosa aspettarmi, quindi c'è da fare un po' uno studio dietro, c'è da metabolizzare un po' l'idea e... Eh sì. Adesso passiamo alla parte più leggera proprio del podcast, sono domande secche, botta e risposta, ok? Pizza o gelato? Pizza. Mare o montagna? Montagna. Gravel o mountain bike? È troppo tempo, troppo tempo, forse dire mountain bike. Cambio, meccanico o elettronico? Elettronico. Ma dai, da un viaggiatore. Eh, perché sulla bici da corsa che ho preso adesso c'è elettronico. Ma non me l'aspettavo. Eh, è bello, è bello. Certo. Per i viaggi forse, sì, è di sicuro meglio meccanico, c'è meno problemi. E invece viaggio in solitario o in compagnia? Forse ti direi solitario ancora. Sulle tue bici da viaggio, monocorona o doppia? Doppia. Borsa telaio, borsa manubrio o borsa sottosella? Puoi sceglierne due. Borsa telaio e manubrio. Distanza o dislivello? Una volta ti avrei risposto dislivello, adesso distanza. Aerodinamica, leggerezza o robustezza? Puoi sceglierne due. Leggerezza o robustezza. Per la tua bici finale, quella della tua vita? Telaio in acciaio, alluminio, carbonio, titanio? Beh, titanio. Cioè, titanio non trovo. Bene, Davide, la puntata finisce qua. È stato un piacere. Grazie mille per il tuo tempo. Grazie a te. Ricordo a tutti di andare a vedere i suoi video, che sono bellissimi. Ti trovano su Instagram, a che indirizzo? ExpressoDeca. Ok. E su YouTube come solo Expresso. Perfetto. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima. mamma mia. Cioè, calma, questo, questo è un incontro, mamma mia. Com'è, spiega, spiega. primo a Caponord e secondo a Caponord. Sì, due primi a Caponord. Spettacolare, spettacolare. Ciao, ciao Alessandro. Ci siamo conosciuti perché col video a Caponord lui l'ha visto, mi ha contattato, mi ha chiesto un po' di domande, ci siamo sentiti costantemente. Io cosa faccio qua? L'ho vista dal telefono ma un sacco di volte perché poi si chiamavamo, no, ma... Tu mi seguiva in Instagram. Eh, sì, sì, sì. Cioè, quando le storie poi si incontrano, no? Cioè, questa cosa qua è spettacolare. Cioè, è la prima volta che lo vedo ma è come se lo conoscessi da... non dico una vita però. Cioè, anche perché ci sentivamo al telefono, no, ma secondo me il sacco a pelo, prendere questo, sì, no, ma però vai tranquillo poi... E poi, l'anno scorso Caponord è andato tutto liscio. Bellissimo, bella esperienza, bellissimo. Bene, bene, belle storie. Incredibile. Prima volta che vi vedete fisicamente. Prima volta, prima volta. Perché lui aveva pubblicato su YouTube il suo viaggio. Sì, bellissimo, tra tutto. Con tutte le riprese, allora mi ha dato degli spunti, adesso lo chiamo, lo chiamo. Sì, sì. Allora, da lui, dopo è andata sto seguirsi in Instagram e in... Pote giù, dai, finisci. Sì, ci vediamo dopo, dai. Spettacolare. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.